Ciao a tutti, io sono Ginevra e sono una cantautrice. Vengo da Torino. Scrivo canzoni che attingono dalla musica folk e dalla musica elettronica ed è uscito da pochissimo il mio EPT debutto Ruins, disponibile online. Vi invito il 17 e il 18 maggio alla Latteria Molloi di Brescia per le finali di Musica da Bere 2019. Sono felicissima di essere tra i finalisti. A presto!